ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a captain subasa rise of new champion per un grandissimo grandissimo aggiornamento bisillabo di felicità veramente grandissimo aggiornamento partiamo un attimino per ordine però con le cose perché si deve procedere per gradi allora leggiamo le ultime quattro notifiche che sono uscite tra ieri e oggi per capire di che cosa stiamo parlando perché fortunatamente in game questo bisogna andare in atto alla bandai quando spiega le cose al di là di alcune traduzioni un pochettino approssimative specie quelle sul sito però bene o male le spiega bene allora oggi abbiamo implementato il percorso scuola media otomo nell'episodio new hero l'ho già iniziato tra le altre cose insieme alla prima parte dell'aggiornamento gratuito sarà accessibile a tutti aggiornando il gioco la versione 1.10 che è esattamente quello che sto portando in questo momento vi invitiamo a provarlo è abbastanza comodo ottenere un successo barra grande successo nell'episodio new hero perché ti chiede semplicemente ad ogni partita di vincere un tot di contrasti contro un singolo giocatore della squadra avversaria solitamente il più rappresentativo la fregatura può essere data forse da quelle partite che durano un solo tempo anziché due ecco in quel caso forse non è proprio così facilissimo ma comunque se state già giocando a questo gioco da qualche mese ce la si fa in maniera abbastanza easy la caratteristica del percorso scuola media otomo può vantare una solida difesa opinabile grazie al suo quartetto omonimo guidato dal capitano angiurade ed un'efficace e strategia di contropiede che sfrutta la velocità del suo atso nitta questo percorso si basa sulla capacità del vostro giocatore personale di contribuire alla strategia di contrattacco in episodio new hero oddio non è che sta cosa si senta oggettivamente tantissima alla fine il funzionamento bene o male è quello di tutte le altre scuole medie che abbiamo giocato fino ad adesso ci auguriamo che continuerete a diventirli a lungo con captain subasa rise of new champion adesso nutro qualche speranza in più anch'io cari ragazzi della bandai per festeggiare l'introduzione al nuovo percorso scuola media otomo daremo inizio a un evento bonus accesso inaugurale otomo un bonus giornaliero stiamo già riscattando da un paio di giorni dopo la manutenzione di mercoledì 2 dicembre ci vedete una ricompensa al vostro primo accesso quotidiano al gioco quindi ricordatevi di tornare ogni giorno al periodo dell'evento dal termine della manutenzione di ieri fino a mercoledì 16 dicembre 2020 durante il primo giorno potete ottenere il bonus subito dopo la finita la manutenzione ricordate che il tempo per riscattare questo bonus sarà più breve del normale questa cosa effettivamente del più breve del normale ammetto di non averla capita comunque a forse perché lui intende che essendoci un resetta all'una ma non l'ho capita proprio niente ho provato a dargli un'interpretazione ma non ce la faccio vabbè bonus di accesso se giocano ogni giorno all'una è possibile ottenere fino a 10 bonus d'accesso durante l'evento i bonus d'accesso possono essere soggetti a modifiche senza preavviso mi auguro anche un tantinello di no informazioni sull'aggiornamento questa è la cosa che premeva di più in questo video introduzione della modalità assist la modalità assist è stata inserita nell'episodio Tsubasa rende i membri della squadra più forte fornendovi un vantaggio maggiore rispetto alla normale durata degli incontri qua ripeto quello che ho detto nell'ultimo video io personalmente difficoltà particolari nella modalità Tsubasa non ne ho trovate ho vinto credo tutte o quasi tutte le partite in maniera netta e anche abbastanza agevole mi ho un po' sorpreso effettivamente che abbiano introdotto una modalità assistita quindi ancora più facile nella modalità Tsubasa ho avuto molte più difficoltà in alcune partite della modalità New Hero la modalità assist è accessibile dall'impostazione dell'incontro ok bilanciamento dell'abilità di potenziamento tiro alcune combinazioni di abilità permettevano di aumentare la potenza di tiro più del previsto strano non l'avrei mai detto quindi abbiamo regolato gli effetti di alcune abilità e abilità capitano abilità e abilità capitano modificate tiratore di potenza saltatore numero uno saltatore numero uno saltatore potente saltatore potente forza dei legami spirito di squadra miracoloso maestria del corpo rabido tiro al volo ultimo passaggio esperto di cross macchina da cross e senso del gol cannoglione stancabile non c'è due senza tre cannone da centrocampo tiro lungo inarrestabile signora del bordo campo anima della tigre feroce dovere offensivo tiro per la vittoria giovane asso miglioramento evidente dominio assoluto super combinazione ultimo sforzo di ang sin secondo me facevano prima ad elencare quelle che non hanno toccato perché praticamente hanno toccato due terzi delle abilità presenti nel gioco macello pazzesco bilanciamento tecniche di tiro alcuni tiri super tiri tiri al volo e combinati a due sono stati regolati tecniche di tiro modificate uragano skylab uragano skylab con masao uragano skylab con kazoo tiro gemello skylab tiro gemello skylab con masao più kazoo già qua io godevo come un devastato quando ho letto sta cosa tiro gemello della to e questo non ho mai capito non ho mai avuto problemi effettivamente col tiro gemello della to tiro gemello della to con yuga tiro gemello della to con sawada crystal overhead ecco crystal overhead mi è partito l'audio crystal overhead rovesciata notante effettivamente ho notato anch'io che erano un po' bagatini io li avevo messo sul mio new hero e mi capitava anche a me di fare dei gol assurdi anche flashando il portiere mai capito perché adesso scopro che effettivamente erano op tiro guidato miracoloso arc bridge shot analyze shot analyze shot analyze shot l'ho già detto analyze shot analyze shot double blade razor shot praticamente tutti quei tiri che dalla loro mattonella flashavano il portiere sempre su sempre non so se adesso lo possono fare ancora magari hanno semplicemente ridotto la mattonella non ho ancora provato e devo dire la verità ma non ci tengo a scoprirlo tanto presto ammetto che non ci tengo a scoprirlo tanto presto bilanciamento del blocco sky lab la portata effettiva del blocco sky lab è diventa e è diventata era più ampia del previsto quindi l'abbiamo ridotta ok ci sta assolutamente adesso ci auguriamo che continuerete a divendirmi con cap penso basa rende il mio centro e bla 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 nuovi giocatori di dlc disponibile da un lato sono felicissimo dall'altro sono un pochettino triste però adesso procediamo con l'ordine per questa cosa ad oggi sono disponibili tra noi personaggi molto celebri vabbè molto celebri per chi sicuramente segue il manga e anche per chi gioca da più tempo a che ne so captain subasa dream team piuttosto che captain subasa zero quelli che erano rimasti a olie benji forever probabilmente non li hanno mai visti levin sia dire il vero ma gli altri mai li trovate nel negozio quindi non fateveli scappare stefan levin svezia centrocampista un centrale equilibrato che riempie velocemente la barra di tiro può contare su diverse abilità che aumentano le statistiche le tecniche bunnac mi rifiuterò sempre di dire il nome nazionale giovanile tailandese difensore un difensore dotato di contrasti e brocchi fondati sulla forza questo l'ho già inserito nella nella mia squadra personale e devo dirlo spacca letteralmente infligge pesanti penalità quando ruba palla e vanta tecniche potenti in grado di ridurre le indicazioni zona v degli avversari utilissimo bunnac a mio modo di vedere per quello che ho provato fino ad adesso non l'ho provato tantissimo giusto in tre partite credo e un paio anche contro la cpu quindi opinione assolutamente leggera in questo momento però mi sembra quello fatto meglio dei tre riccardo spadas il mio idolo il mio giocatore preferito del 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 manga il mio personaggio preferito in generale nazionale giovanile messicana portiere un portiere dallo stile aggressivo che ama il rischio recupera spirito quando esegue un dribbling o tiri e spesso avanza in attacco vabbè farlo avanzare in attacco o meno è una scelta vostra allora andiamo un attimino chiudo qua un attimo andiamo a vedere come sono statisticamente riportati questi tre giocatori ecco piccolo dettaglio che mi sono dimenticato di dire per i giocatori io li ho scaricati direttamente dal playstation store ho cercato captain subasa rise e mi sono venuti fuori tutte le cose acquistabili per captain subasa era il mio champion e i tre giocatori avevano proprio dei pacchetti a sé stanti l'uno con l'altro e non so se esiste una modalità per scaricare direttamente anche in game io naturalmente sto usando la versione playstation 4 poi per andare a trovarli e a metterli nella propria squadra io sono andato in modifica definitiva modifica squadra personale adesso vedrete tutta la velocità della playstation tutto quanto seleziono naturalmente la mia la mia squadra personale modifica squadra io l'ho già messi dentro ovvio mai per farvi vedere dove sono l'ultima schermatina questa qua in basso qui dove c'è scritto cambia giocatori vabbè quella che avete sempre utilizzato per inserire qualunque giocatore di questo gioco nella vostra squadra adesso seleziono bunnac perché già comunque ce l'ho giusto per farvi vedere che hanno inserito questo slot extra giocatori onorari stefan levin singbras bunnac singbrasert bunnac e ricardo espadino mio allora espadino lo visualizzo lo visualizzo per ultimo guardiamo prima come stefan levin ha premessa alcune abilità di questi giocatori se non ho capito male dovrebbero essere comunque sbloccate tramite l'episodio new hero quindi non sono non credo siano tutte sbloccate sin dall'inizio o meglio per espadas potrei dire che sono abbastanza sicuro sulle vine bunnac oggettivamente no non ho tutta questa non ho tutta questa certezza però credo comunque di sì forse però per vederli mi conviene vederli dalla modifica giocatore ecco sono uscito sono andato nella modifica personaggio perché credo che da qua si possano visualizzare un pochettino meglio più che altro per le loro per le loro tecniche tutto tutto la baradà allora statistiche levin ha un valore totale di 136 attacco 90 difesa 81 potenza 82 velocità 88 tecnica 96 è un centrocampista completo che più completo effettivamente non si può abilità ok lui clicco ma non ho ancora sbloccato niente naturalmente tiro affilato che se non ricordo male c'era forse c'era già in game magari mi ricordo mai un tiro che convolga tutta la potenza del corpo nel piede che occupisce la palla ok tipo dritto potenza b velocità s discesa media e raggio medio valore 7 valore 7 anche per l'overhead kick questo sono abbastanza sicuro che già ce l'avevamo super tiro quindi un tiro di livello 2 il super tiro affilato sempre dritto potenza s velocità s discesa ridotta raggio lungo quindi può essere tirato dalla lunga distanza specifico quello che ho già detto anche nell'ultimo video di captain subasa rise of new champion molti si chiedono ma perché non ha levin shot il levin shot è una versione molto distruttiva del tiro di levin che levin va a come si può dire a ad imparare crea letteralmente questo levin shot in un periodo molto particolare della sua vita qualcuno oggi mi ha fatto il buon luba burla ha commentato nello scorso video ecco questo è il tiro di levin prima che passasse al lato oscuro della forza esattamente noi il levin che abbiamo in questo gioco in questo momento è un levin allegro abbastanza spensierato pieno di gioia di vivere e innamorato lui quando segna l'avete visto anche nel trailer dice il pallone mio amico e tu sei il mio amore rivolgendosi alla sua fidanzata il levin shot che è un tiro esageratamente cattivo tra virgolette perché tende proprio a far male agli avversari soprattutto ai portieri che provano che provano a pararlo è un tiro che levin crea quando la sua fidanzata purtroppo viene a mancare quindi lui si svuota completamente di tutta questa pace serenità allegria e diventa cupo 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 diventa uno del tipo a me non me ne frega più niente di nessuno io sfascio tutti e da lì nasce appunto il levin shot questo arco narrativo si basa quando levin aveva si basa è stato creato quando levin aveva comunque 16 anni erano i mondiali under 16 pertanto essendo ancora fortunatamente la sua fidanzata vive vegeta non ha avuto ancora modo di sfogare la sua rabbia nei confronti della vita creando il levin shot per questo che il suo tiro qua è questo la finta dell'aurora invece la conosciamo bene noi amanti di captain's ambassador in team perché effettivamente è il dribbling di levin che qua è stato riprodotto non proprio benissimo devo dire la verità ad ogni modo base di di potenza e tecnica sss è un dribbling ultra tecnico e ultra tecnico successo grande aumento di tecnica successo multiplo ulteriore aumento di tecnica cioè è veramente tecnicissimo valore 9 non a caso passaggio al passaggio curvo questo già ce l'avevamo sul dirt change già ce l'avevamo velo dell'aurora come contrasto l'aurora curtain la chiamano credo se non ricordo male nel nel manga giustamente finta dell'aurora velo dell'aurora contrasto dell'aurora forse sarebbe stato più idoneo ad ogni modo base t di potenza tecnica sss anche in questo caso velocità 0 però giustamente contrasto che velocità vuoi dargli danni per successo c successo riduzione della tecnica avversario valore 9 è un signor contrastino per il buon levin abilità zona levin con la zona via attiva aumenta di molto la velocità di movimento della squadra e aumenta la potenza di tiro a terra del capitano in zona d'attacco schema vichingo guadagni temporaneamente parte delle statistiche di un avversario sconfitto vincendo una sfida uno contro uno dribblando un avversario guadagni una parte delle sue statistiche ora qua dipende insomma per un attaccante per un centrocampista è tantissima roba perché centrocampisti solitamente affrontano innanzitutto altri centrocampisti e i centrocampisti hanno delle statistiche da stacco mediamente buone se affrontate un pier piuttosto che un diaz guadagnare una parte delle loro statistiche e tanta roba su un attaccante non ce la vedo molto utile questa abilità lo dico in questo caso in ottica new hero perché l'attaccante il più delle volte va ad affrontare dei difensori e guadagnare delle statistiche rubandole ai difensori che non sono propriamente dei mostri in tiro e quant'altro potrebbe essere fine a se stesso valore 8 comunque la palla mia amica vabbè riduce ancora di più il tuo costo spirito tiro di precisione aumenta di molta facilità con cui tu i tiri seguono traiettorie complicate dribblatore aumenta leggermente la tua velocità di movimento maestro del possesso consuma l'80% di spirito per evitare una tecnica di contrasto queste già tutte le avevamo allora levi visto così come abilità mi piace conferma le modifiche non ho modificato niente mi piace vediamo come bunnac è quello che più mi ha impressionato invece in partita valore 113 quindi neanche un valore esageratissimo tutto sommato attacco 81 che per un difensore tanta roba difesa 92 potenza 97 velocità e tecnica 75 le sue tecniche il booster shot si ha anche lui un tiro un tiro dritto potenza velocità discesa elevata raggio raggio medio discesa elevata credo che voglia dire che perde facilmente impeto dalla distanza quindi è un tiro che andrebbe se non ho capito male tirato quanto più vicino possibile alla porta al momento io non ho sbloccato né tiro al volo né super tiri non so neanche se li ha dribbling dribbling di muay thai con una base b di potenza e s di tecnica s di tecnica da un difensore che ha 75 in tecnica ammetto che non me l'aspettavo grande aumento di potenza per il successo successo multiplo ulteriore aumento di potenza è fatto per dribblare 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 ammazzando tutti perché quel dribbling nel muay thai è una cosa illegale in 18 paesi diversi e poi arrivare in una buona posizione avendo accumulato ulteriore potenza per alla fine arrivare a tirare contrasto nel muay thai anche questo illegale quasi in 81 paesi diversi non in 18 una base b più per la potenza ss per la tecnica danni per il successo s successo riduzione della potenza valore 8 e vabbè blocco di resistenza blocco di resistenza forse già ce l'avevamo potenza s raggio c poco poco raggio ma comunque blocca abbastanza abilità difesa brutale con zona v attiva un contrasto di un tuo giocatore riduce le statistiche dell'avversario e abbassa l'indicatore zona v di molto è un anti zona v è un anti zona v difesa muay thai aumenta leggermente il tuo indicatore zona v riduce leggermente quello dell'avversario riduzione tempo le stati riduce temporaneamente va interpretato malissimo sta cosa riduce temporaneamente le statistiche di un avversario che sconfiggi ok placatore aggressivo aumenta di molto i danni allo spirito inflitti agli avversari distruttore aumenta ulteriormente la durata della riduzione delle tecniche degli avversari buona questa per un difensore fortificazione aumenta di molto la potenza delle tue tecniche di blocco è un gran bel bloccatore poi adesso che hanno nerfato i tiri questo veramente ferma se nella traiettoria giusta ferma praticamente qualunque cosa in questo caso modifiche non ho fatto vediamo il mio personaggio preferito in assoluto di questo gioco riccardo e spadas a cui hanno dato un 153 come valore è il portiere più costoso in assoluto ne vale la pena mi sanguino al cuore a dirlo ma com'è pronti via assolutamente no ma vediamo veniamo un pochettino attacco 85 difesa 90 potenza 84 velocità 87 tecnica 80 che per carità è per un portiere comunque al di là di tutto anche paragonato con gli altri portieri ok non sono statistiche eccellenti però comunque sono statistiche di tutto rispetto il problema che cos'è allora tiro al volo cos'è che fa aumentare di così tanto cos'è che fa aumentare di così tanto il valore di questo giocatore come costo tiro insidioso valore 7 tiro dritto potenza b più velocità c di cesa ridotta raggio medio tiro volante insidioso e non ho visto se l'hanno riproposto dal manga ma se l'hanno riproposto dal manga io questo lo devo insegnare al mio prossimo new hero costi quel che costi tipo dritto potenza b più velocità c di cesa arrivata raggio corto chi se ne frega è un tiro al volo quindi capirai a era il dribbling base potenza b e velocità a successo grande aumento di velocità successo multiplo ulteriore leve aumento di velocità giustamente lui dovrebbe arrivare quanto più velocemente possibile vicino alla porta dribbling 2 shield bash base a di potenza b di tecnica e b di velocità successo enorme aumento di potenza successo multiplo ulteriore aumento di tecnica due cose che tra di loro non ci azzeccano al tubo passaggio lungo full power passaggio di tipo dritto contrasto 1 shoulder change contrasto 2 force tackle il problema che cos'è? perché vi dico che alcune abilità di questi giocatori vanno sbloccate? perché come ben vedete lui al momento non ha una parata speciale e un portiere senza parata speciale è quella che attivate con gli stessi pulsanti della zona V praticamente è un portiere che non ha senso di esistere il tema adesso che ci sia senza parata altra poteva poteva se niente poteva se niente è un portiere che non ha senso di esistere io credo che ce l'abbia perché nel trailer del gioco l'hanno fatta vedere la sua parata speciale quindi in qualche modo probabilmente andrà sbloccata o aumentando il livello della carta o magari aumentando nell'amicizia nella modalità New Hero non credo che rimanga senza senza parata, fatto sta che pronti via così come adesso, se voi pensate di fare come sottoscritto, di schierarlo subito come sottoscritto, schierarlo subito come il vostro portiere titolare nella vostra squadra personalizzata ecco, magari potrebbe non essere una grandissima scelta, lui recupera stamina abbastanza in fretta ma ho notato che la perde anche tutto sommato abbastanza in fretta, non ho capito bene quanta stamina abbia nei confronti degli altri portieri, fatto sta che proseguendo, abilità contraattacco a Zteco con zona V attiva vince sempre i contrasti in zona difensiva aumenta di molto la potenza di tiro della tua squadra e la velocità di movimento del Dremlin come zona V da insegnare ad un eventuale New Hero e farlo capitano è un'ottima cosa perché cagolo vinci sempre i contrasti in zona difensiva vuol dire che qualunque cosa lui la vince ripeto, insegnata a un New Hero in questo caso magari anche difensore però vabbè è l'abilità capitano attenzione, è l'abilità capitano specifichiamo bene poi portiere miracoloso aumenta di molto le statistiche di attacco a velocità temporaneamente dopo una parata giustamente lui è fatto per parare, uscire e driblare il portiere recupera spirito se vince un dribbling dopo una tecnica di tiro se vince un dribbling o dopo una tecnica di tiro tecnica di tiro in questo caso sua non tecnica di tiro dell'avversario non confondete forza traboccante aumenta leggermente tutte le proprie statistiche con livello spirito al 75% o superiore quindi quando lui già si stanca di un quarto della sua stamina diventa anche un bel po' più debole è un giocatore che è fatto non per tenerlo fino alla fine e poi fargli ricaricare la stamina è un giocatore che come si consuma un po' la sua stamina andrebbe ricaricata subito e ok se giocate contro la CPU si può anche fare se giocate contro un avversario in carne e ossa riscate di prendere più gol su tiro bianco che su tecnica di super tiro canoniera istancabile a partita inviolata a partita inoltrata a partita inviolata aumenta ancora di più la potenza del tuo tiro questa già esisteva allergico alla sconfitta in svantaggio aumenta leggermente tutte le proprie statistiche di per sé ripeto non è malvagio è buono devo capire vale per tutti e tre i giocatori in questo caso quali abilità se ci saranno delle abilità extra che possono essere sbloccati appunto tramite la modalità New Hero facendo amicizia con questi personaggi perché poi comunque questi personaggi li possiamo incontrare anche nel nostro percorso New Hero anche se non andremo ad affrontare le loro nazionali perché come avete visto non sono state non sono state inserite nel gioco o se magari basta semplicemente trovare le loro carte tramite i vari pacchetti estrazioni aumentando il livello delle carte magari può diventare anche possibile aumentare le loro le loro tecniche presenti qui nel gioco questa cosa la devo ancora opterei più effettivamente per la seconda cosa che per la prima però nel dubbio le proverò comunque tutte e due io comunque Spadas l'ho messo il titolare a prescindere perché sapete non frega niente io per me Spadas è Spadas quindi poco da dire per me è già titolare è già numero uno ed è già capitano ok ragazzuoli dai per oggi era tutto io spero a breve di tornare anche a portare magari qualche gameplay di Spadas il mio champion tu nel carpare permettendo e soprattutto in questo caso abbonamento al Playstation Plus permettendo perché ho scoperto che mi è scaduto l'abbonamento al Playstation Plus mannaggia a me che non ho usufruito del Black Friday lo pagavo un terzo in meno adesso mi toccherà aspettare le promozioni di Natale ammesso che facciano anche promozioni a Natale ma spero veramente tanto di sì ad ogni modo appena possibile ripeto porterò anche qualche nuovo video di gameplay dato che il gioco o almeno per quello che ho provato quello che ho poco che ho potuto provare online prima che mi scadesse appunto il Playstation Plus pare che effettivamente sia stato sistemato e sia stato sistemato abbastanza bene non voglio cantare vittorie troppo presto perché i giochi su Captain Subasa in generale mi hanno insegnato che sistemano un bug e ne escono fuori altri due quindi non voglio cantare vittoria troppo presto però dai le prime sensazioni sono positive speriamo che a lungo andare si nivelino anche veritiere e durature quindi ragazzi per oggi era tutto spero che il video nella sua semplicità vi sia piaciuto pace belli alla prossima alla prossima ciao a tutti Grazie a tutti.